Apertura della caccia, quest'anno travolto dall'implaccabile Filini, sempre assatanato da nuove tragiche iniziative, anche Fantozzi ha deciso di parteciparvi. Per chi come Levi con la vittoria del campionato nel Mirino, esordire tra le mura micche all'apertura della stagione venatoria potrebbe essere di buon auspicio. Avversario di giornata al Valle Aurina, reduce dal pari interno di una settimana fa contro il Termeno. Dirige El Hadi di Rovereto, la gara entra nel vivo già il quinto quando Pete Schiller in aria viene murato in angolo da un attento Agosti. Rispondono i termali all'ottavo con Conci che servito in aria tenta il pallonetto su Psenner in uscita. Il numero uno bianco-rosso riesce a respingere, la palla torna al numero nove giallo-blu che scarica per la corrente Baido, il cui colpo a botta sicura viene respinto in extremis da un difensore altoatesino. E' il Levico a fare la partita, il Valle Aurina tenta di innescare con dei lanci lunghi Pete Schiller. Al diciassettesimo la punta altoatesina si guadagna una punizione al limite dell'area termale. Sulla battuta va Capitan Steger che calcia forte ma non trova la porta. Al venticinquesimo serpentina del talentuoso Baido messo giù dalla retroguardia bianco-rossa. Si incarica lo stesso numero undici di Melone di calciare la punizione ma la palla si spegne sopra la traversa. Dopo una prima parte di gara vivace il caldo al viale Lido si fa sentire e i ventino in campo tirano il fiato. Quando ormai si attende solo il duplice fisco del signore Ladi, padroni di casa passano in vantaggio. Sferrazza dall'au di destra serve il cacciatore Conci che copre il pallone all'avversario e entra in area con un preciso tiro e infila l'angolo alla destra di Psenner. La ripresa comincia con il Levico in avanti nel tentativo di trovare la rete che può chiudere la partita. Al cinquantaseiesimo Vitti duetta con Filippini sulla sinistra e calcia in mezzo dove Conci non riesce a trovare la girata vincente. Tre minuti più tardi ancora Conci sugli scudi. L'attaccante Noneso lavora un buon pallone sulla sinistra. Il cross deviato da Capitan Steger arriva a Baido la cui deviazione aerea costringe Psenner a ritrovare la posizione e a salvare i suoi. Al sessantatresimo provano a farci vedere in avanti anche i biancorossi di Grosgaard Steiger. Dalla sinistra Niederkofler centra in mezzo per Niederwanger che calcia al volo senza trovare la porta. Al settantacinquesimo è Tessaro a tentare la via del gol ma la sua rasoiata da fuori viene deviata in angolo da Psenner. Nel finale di gara i biancorossi Altuatesini tentano con dei lanci lunghi di mettere in difficoltà i ragazzi di Melone ma la difesa gialloblu controlla e sulla respinta aerea di Agosti il signore Eladi dice che può bastare così. Al viale Lido vince Levico 1-0 e con due vittorie consecutive è in veta l'eccellenza. La caccia alla Serie D è ufficialmente aperta.